Ho rischiato il ban su YouTube e non sto scherzando ragazzi Oggi insieme a Mr.Domi andremo a reattare a uno dei miei video Io e Domi siamo rimasti proprio senza parole Non so come anche Domi si è meravigliato Ancora YouTube non mi ha buttato giù quel video Iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate un bellissimo like ragazzi Vi auguro una buona visione e lasciatemi un commentino e fatemi sapere cosa ne pensate Domi, allora abbiamo fatto nel tuo canale la reaction ai nostri primi video ed erano cringe Tantissimo Questo è ancora un livello in più È ancora più cringe e ti dico Sai che vuol dire È pubblico ancora È pubblico, è pubblico Sai che vuol dire rischiare il ban su YouTube? Perché non lo levi dopo sto video che lo dici? Lo vorrei togliere lo sai? Dopo sto video credo che lo vada a togliere Allora facciamo così Vediamo tutto il video, ci facciamo la reaction insieme Fine video ti mi dici se devo toglierlo o no Preparati eh, ma anche voi ragazzi preparati perché non avete mai visto un Marques così Parolacce su parolacce, insulti su insulti Ah qua la qualità era meglio, l'audio era sincronizzato quindi già un passo avanti eh Ah ti spiego, Zedafire questo qui era un mio amico e invece questo qui che è entrato adesso che ti faccio vedere che in realtà Lele si gabbo questo era mio cugino Ok, quindi stavamo registrando... In realtà si chiama Lele Sì In realtà si chiama Fakn Sì Alleluia Aspetta qual'era l'italiana questa? Questa qua è la nera e quella è l'aliana, la nera Eh, ma è il color nero Così Vabbè questo era l'inizio del video, così vabbè Siamo in una sky, in una skyblock, come avete visto, cioè come vi ho già detto Siamo in compagnia di Monikades Cioè vedi, Monikades, quattro nomi In realtà si chiama Gabbo che in realtà è il titolo Lele Vabbè lasciamo stare Salutati, salutati muti, vai Te che mongoloi Eh, Gabbo Quindi, niente Che poi spoiler, non li ho proprio lasciati Iniziamo subito, questa è la skyblock infiniti C'è un botte di episodi, quindi raga Cerco di far uscire... Quante ne hai fatte la pena? Eh, credo due Allora, attivo la mappa, eh Che finisce tutto sto mongoloide Quante volte l'hai detto, gioco a tre? Eh sì, e aspetta, il video è lungo Ops, scusa, errore mio Ok, rimedio subito Ok E tu hai capito quello che ho detto? No E nemmeno io Cioè io parlavo senza senso Non sapevo nemmeno io quello che dicevo Skyblock infiniti Surla Oh che cazzo mi fa male il b***o Ma non c'è, non c'entrava mancora Che aveva pure fuori contesto E questo è uno su tante Ma ci sta di peggio Cioè io voglio risentirlo, no? Oh che cazzo mi fa male il b***o Cioè capisci che non ha un senso Perché non... Allora, vai Incominciamo... Ah raga, aspetta, eh La terra questa qua ci serve Quindi non farei figli di p***a Così Ci sta La terra ci serve Quindi non farei figli di p***a Ci sta, ci sta No, prendi sublo Non pre... Nooo Sto Alex di merda Sto skin di merda Perché? Allora, questo è il primo insulto sensato È vero Sapete che... Ok, sta in sapling Gabriele, a posto Allora Io faccio il cazzo in culo Oh, ma lo vuoi fare sto cazzo di cobblestone generator Non sarà ancora così secchio male Manco lo fai Io faccio il cazzo in culo Chi sta... Io faccio il cazzo in culo Ma... Che sta a fare quel mongoloide? Ragazzi, se mi buttate giù c'è una lava Fermatevi Se mi buttate giù le mazzate Allora, raga, mi spiego subito Perché Moni non si sente Quindi... Inbot su YouTube Inbot... Un altro nome, bro Inbot su YouTube Di cui Moni Di cui Gabbo Di cui Lele Ma quattro nomi Una persona, quattro identità Perché c'ha neri in casa Quindi se... Non ha senso Se metto il ghiaccio e lo rompo Funziona? E direi proprio di sì Comunque ero proprio stupido, bro No, non è vero Perché se lo mettevi Che non aveva nessun blocco sotto Non si trasformava in acqua Lo perdevi Ah, non ero stupido Se è stupido Cioè, sei peggio mo Ok Così, così, così Te fa così Non ha già una tosca Capisci Che proprio Che stai affatto? Ah, il cazzo Mi brucia il culo Fermati Allora, facciamoci la carta in tempo Se mi buttate per... Dai, raga O non mi cominciamo a buttare per sotto Perché ti ha posto monitor Mi sento il monitor Ma che tu non mi fatti il monitor Ma che cazzo ne so io? Ho sbagliato Mungo spastico Mungo spastico Non lo sentivo questo termine Allora, raga Io vi do la gobbia Sto ne voglio incominciare a fare i punti Ah, ok Bro, mi dicevo che ho gli attacchi Non ero normale Non ero normale Non sto scherzando Cioè, mi piavano proprio gli attacchi, bro Ma ti vengono ancora? No, ancora no Sicuro? Sì, sì Stream of live No, no, no No, no Gabriele, metti Guarda, adesso fa di due punti Guarda Gabriele come gli sta a fa Più lento di una lumaca Gabriele Un altro nome, vero Gabriele Inbot Gabbo Money Lele Siamo a cinque Che è sta merda? Un pezzo? Uno? Sto dirchio Oh Non, 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 non Non mi fa un piccolo Cos'è sto taglio? Mi spiega Cos'è? Mi sento storto Mi sento storto Raddrizzami Bro Ok, ok Ok Raga, però Per Diana Per Diana Diana Hai fatto uno Ho fatto bene Ho visto? Hai visto? Ho sentito quanti problemi avevo io? No, è ad agosto 2019 Tre anni fa Ero così malato Ti spieghiano tante cose È vero Chi sta a rompere con le mani, sta schiena di merda? Ecco, un ciottolo bezzo, bravo. Un ciottolo! Brota, quant'è che non sentivi ciottolo? La fregna da mamma. Questo non aveva senso. La fregna da mamma, cosa fa? Non aveva senso. Cioè, questo video è insulti su insulti su... Questo video sono insulti. È un cobre, sono un gelo. No, è un cobre, sono un gelo di merda. Dai, ragazzo. Tieni, ero. Bro, sta effetto proprio da... Da rincoglionito. Proprio da rincoglionito. Si commenta da solo. Il punto, se vuole, è che si commenta da solo. Tutto ciò che stiamo vedendo. Si commenta da solo. È vero. C'ho i sapling per Diana. Oh, hai cagato il cazzo. Diana di merda. L'ha mezzo di botte se la dice ancora. Eh no, è Dacia, un piccone, ma un bastardo. Che b***o. Perché? Perché? Era giusto, era giusto. Era vicino alla Tava. Vedi. Devi venire a prestare la gente come i cani. Così devi fare. Zumba, zumba. Come i neri, vai. Sei passato a... Come i neri? Non ho capito il collegamento. Nemmeno io, guardo. Pazzo. Preparati per questa parte perché è bella. Praticamente il monumento c'era sta bedrock. Che la mappa ti diceva di consegnare come primo obiettivo. La bedrock la posso consegnare. Porco, tu è la sano! No, è sano. Bro, qua mi incazzo e sclero, senti. Guardatevi che palle ora. Che palle, ma perché? Sempre in mezzo con un mongoloide. Va, 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 va. Che palle. Chi fa sabedrock qua? Diana. Tutto incalzato, tutto. Sì, sì, sì. Aspetta, ancora non è finito. Ancora non è finito. Io caricavo i video alle 13.30, bro. Continuiamo la serie. Mi raccomando, passate in descrizione sul canale di MoneyGales e Gabbo. Iscrivetevi al loro canale, iscrivetevi anche al mio. Lasciate a dare, commentate, condividete. Consigliatemi delle cose se siete più esperti di noi nelle SkyBlock. Noi vi salutiamo e... Bella! Bella! Non salutate, eh? Fa schifo, saluta. Ti sa sformare con una pecora. Secondo te lo devo tenere il video sul canale? Ma popo per niente, zi. Popo zero. Perché? Ma come puoi tenerlo? No, mi ringrazio per aver partecipato. Ti sei divertito? Un botto, zi. Ho anche finito i popocorn. E tu ti aspettavi tutto quello che ho detto? Davvero? Mi ricordo che ci conosciamo da due anni, quindi un anno dopo sto video, off camera. Eri pazzo, già. Eri già pazzo. Eri pazzo. Cioè quel periodo in cui scleri, fai, ti incazzi, cioè... Ma che cosa ci sta? Ci sta. E invece... Ci siamo passati tutti. Chissà, chissà. So qualcosa del tuo video. Comunque ragazzi, mi saluto. Ringrazio ancora Domi. Iscrivetevi. Ti vedo la campione di Shatterhike. Bella. Ciao. 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 Grazie a tutti.